Furti di verità tracce di memoria è l'iniziativa organizzata dal presidio di Libera Eboli Aniello Giordano insieme con il comune di Eboli che si terrà nel chiostro del complesso monumentale San Francesco il prossimo 19 luglio a partire dalle ore 20 e 30. Per l'occasione la compagnia Teatro Grimaldello porterà in scena l'opera di teatro civile Fiore Ammazzato per la regia di Antonio Grimaldi dedicata alle vittime innocenti di Camorra. Nel cast il giornalista Alfonso Tramontano Guerritore, autore dei testi insieme con Alessandro Gioia e Andrea Torre. Un momento di riflessione quello promosso da Libera nel 26esimo anniversario della strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 dei suoi agenti di scorta per sostenere la richiesta di verità e giustizia dei familiari delle vittime innocenti delle mafie e dei familiari del giudice Borsellino rispetto a quel che è stato definito uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Grazie a tutti.